Magnificata anima mea dominu Magnificata anima mea dominu Laudetur Iesus Christus, semper laudetur Cari amici e cari fratelli, meno 13 giorni alla live straordinaria del 28 ottobre alle ore 21 Santa Domenica a tutti cari amici e anche oggi voglio dirvi qualche cosa ma prima diciamo una preghiera In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, Amen Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium et tui amoris in ei signem accende Emitten Spiritum Tuum et crea buntur et renovabis facem terre Oremus Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustrazione doquisti Da nobis in eodem Spiritu recta sapere Ed eius semper consolazione gaudere Per Christum Dominum nostrum, Amen Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum Benedicta Tu in mulieribus ete benedictus fructus ventris Tui Iesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen O Maria, sede sapientiae, ora pro nobis In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, Amen Veni Sancte Spiritus, veni per Maria Cari amici e cari fratelli, oggi ho pensato di leggere con voi qualche parola da questo libro Il mistero della pietra nera In particolare il capitolo come un fiume d'acqua, il capitolo conclusivo E poi vorrei leggere con voi il messaggio del 10 ottobre di Nostra Signora La televisione era accesa E l'inizio del capitolo come un fiume d'acqua La televisione era accesa Io mi trovavo in cucina lavando i piatti quando mi accorsi che iniziava a cadere acqua per terra Sembrava una sera come tante altre Avvertivo un po' di stanchezza dopo una lunga giornata di studio e lavoro Il telegiornale riportava i fatti salienti Le discussioni politiche Gli ultimi sbarchi dei migranti I violenti scontri in Francia Il fallimento di alcune banche E lo storico accordo fra Russia e Iran A un certo punto però una notizia richiamò la mia attenzione Un fatto grave era accaduto in Vaticano Circolavano voci sulla conclusione di un pontificato E sul successore già pronto da molto tempo Mi avvicinai per ascoltare meglio la notizia Ma invece di far partire il servizio da Roma I giornalisti introdussero in studio un cardinale per intervistarlo Entrò con un gran sorriso e salutò con un sessantottino Peace and love Con le dita indice medio in segno di vittoria Quel vescovo l'avevo già visto Era apparso in un articolo del settimanale Il Modernista In cui spiegava tutti i motivi per cui la chiesa oggi Dovrebbe finalmente abolire il celibato dei preti Questo prelato il cui nome è Cardinal Giuda Iscariote Alla prima domanda del giornalista esordì in questo modo Il nome del cardinale Giuda Iscariote E disse L'ermeneutica della continuità si è rivelata fallimentare ed è morta Noi vi mostreremo il vero volto del Vaticano II Il suo vero spirito Quello che oggi vuole la gente nelle periferie E poi sorrise bonariamente Il giornalista chiese Eminenza cosa intende dire? Parla delle periferie di Roma o di quelle della vita reale? Dell'amore e delle scelte importanti? Riconoscerete il diritto all'aborto e all'eutanasia Come autentiche scelte di amore? Siete pronti a dare pieni diritti a tutti? La Chiesa darà la sua benedizione a chiunque O continuerà a fare sentire qualcuno escluso ed emarginato? Non credevo alle mie orecchie Che domande! Che pretese! Ero curioso di ascoltare la risposta Dell'illustre ospite Il giornalista non aveva minimamente messo in difficoltà il cardinale Che ben contento rispose prontamente Certo! Del resto ricordiamoci che siamo tutti fratelli E che siamo tutti figli di Dio Lui ci ha insegnato a non giudicare E ad accogliere tutti Ora lei mi prenderà per un eretico Perché sto per dire una cosa forte Ma è la misericordia che mi fa parlare La Chiesa è anche la casa dei fattucchieri Degli immorali Degli omicidi Degli idolatri E di chiunque ama e pratica la menzogna Sono tutti i nostri fratelli E hanno il diritto di sedersi alla nostra mensa L'amore non esclude nessuno dal suo giro Dal suo giro! Esclamai verso la tv Dal suo girone infernale! Vorrà dire Bene cari amici Ci fermiamo qui Per questo capitolo del libro Il mistero della pietra nera E ora vorrei leggere con voi Il messaggio di nostra signora di Anguera Trasmesso il 10 ottobre scorso a Pescara Ha detto la Madonna Cari figli In Dio non c'è mezza verità L'abisso della confusione Si diffonderà in ogni luogo E molti perderanno la fede Io sono la vostra madre E vengo dal cielo per difendere quello che è di Dio Qualunque cosa accada Rimanete con la verità Siate fedeli a mio figlio Gesù Non permettete che il fango delle false dottrine Vi trascini nell'abisso del peccato Ascoltate mio figlio Gesù Accogliete il suo Vangelo E gli insegnamenti del vero Magistero della sua Chiesa Camminate per un futuro doloroso Le cose del mondo saranno nella casa di Dio E molti cammineranno come ciechi Che guidano altri ciechi Soffro per quello che viene per voi Vi chiedo di mantenere accesa La fiamma della vostra fede Pregate molto davanti alla croce E avrete forza per sostenere le prove che verranno Conosco ciascuno di voi per nome E pregherò il mio Gesù per voi Vivete in un tempo peggiore del tempo del diluvio Curate la vostra vita spirituale Non dimenticate Voi siete nel mondo ma non siete del mondo Nelle mani il Santo Rosario E la Sacra Scrittura Nel cuore l'amore per la verità Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto Nel nome della Santissima Trinità Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Rimanete nella pace Quindi non permettete che il fango delle false dottrine vi trascini nell'abisso del peccato Perché cari amici Le false dottrine possono essere riconosciute Oppure possono essere invece confuse con la verità E allora in quel caso portano le persone a fare scelte sbagliate Eh ma se lo dice anche la Chiesa Oggi la Chiesa dice così In passato diceva Collì E quindi in fin dei conti non è male Se io oggi faccio questa scelta Che era considerata sbagliata In fin dei conti tutti dicono così oggi Eh ma tutti dicono così Ma il Vangelo che cosa dice? Gesù che cosa dice? La Chiesa che cosa ha sempre detto? E quindi cari amici Il peccato resta peccato La legge di Dio non cambia Neanche uno iota sarà cancellato Quindi non dobbiamo illuderci O farci confondere dai cattivi pastori E da tutte queste eresie e false idee Che oggi circolano E da queste mezze verità Che vengono propinate appunto Per questioni puramente politiche mondane Per interessi di altra natura E poi dietro a tutto Come vi ho detto anche nei giorni scorsi Anche ieri C'è un regista nascosto Che ha come obiettivo La perdizione delle anime Quindi nostra signora ci dice Nelle mani il Santo Rosario E il Santo Rosario È una catena che ci lega al cuore di Maria Poi preghiamo i Santi Arcangeli Ci affidiamo a San Michele A San Raffaele A San Gabriele Molto importante Gli Arcangeli ci difendono Gli Arcangeli ci guidano nella verità Il nostro Angelo custode Invocare lo Spirito Santo E rifugiarci nei Sacri Cuori Di Gesù e di Maria E credere a quello che la Chiesa Ha sempre insegnato Il Catechismo di San Pio X Perché quello di Giovanni Paolo II Purtroppo, cari amici Risente Risente degli errori modernisti E anche questo dobbiamo dircelo Non possiamo nascondercelo Il Catechismo da tenere con noi È quello di San Pio X Perché molti di noi Non hanno la capacità Di rendersi conto Degli errori Che sono penetrati Nel nuovo Catechismo Bene, cari amici Cosa mi resta da dirvi Appuntamento il 28 ottobre Alle ore 21 Non mancate Perché è molto importante Vi aspetto Magnificata anima mea Domino Magnificata anima mea Domino Grazie a tutti Bisogna A presto